Il diritto di curarsi è in particolar modo di farlo nelle strutture pubbliche un diritto di base che sempre più spesso si scontra con l'impossibilità reale, trovando ospedali e punti di primo intervento che chiudono e lasciano spazio a cliniche private non accessibili a tutti e liste di prenotazione che in molti casi superano i 12 mesi di attesa. A ribadirlo stamattina in una conferenza la Segreteria di Fratelli d'Italia in un incontro con la stampa. In particolar modo sono le prestazioni più importanti per patologie che richiedono diagnosi immediate a fare conti con questo modello di gestione della sanità che prevede ridimensionamenti degli ospedali e accorpamenti territoriali che lasciano scoperte e prive di assistenza, anche quella di base, molte realtà del nostro entroterra e non solo. La Segreteria di Fratelli d'Italia ha scelto Fano come sede di questa conferenza stampa proprio perché Fano rappresenta il paradigma di come è stata gestita la sanità nella provincia di Pesor Urbino. Fano infatti aveva un suo ospedale efficiente e funzionale che serviva una vasta aria del territorio fino ad arrivare all'entroterra. Questo ospedale è stato smantellato e si avvia verso una lunga agonia che lo porterà alla chiusura e sarà sostituito come c'è stato anticipato dal presidente della regione Luca Ceriscioli da una clinica privata che sorgerà addirittura a Chiaruccia dove invece il famigerato algoritmo di Ceriscioli aveva individuato la sede per realizzare l'ospedale unico provinciale. Non paghi di ciò, in questi ultimi quattro anni la regione amministrata del Partito Democratico ha chiuso, ha smantellato ben 200 posti letto della sanità pubblica per far posto, per regalare come ci è stato annunciato in questi giorni, ben 100 posti letto alla clinica privata di Chiaruccia. Questo è come è stata gestita la sanità nella nostra provincia. Ne sono esempi l'ospedale di Cagli dove a volte è difficile anche fare una semplice risonanza magnetica o quello di Fano accorpato con Pesaro in previsione di una futura chiusura per lasciare spazio ad una clinica privata. Così ci si trova ad esempio ad avere un'urgenza per una risonanza magnetica alla testa e sentirsi dire che si può fare solo privatamente a 250 euro oppure aspettare dai 12 ai 18 mesi, ma in alcuni casi potrebbe essere troppo tardi. Quindi è più attuale che mai la battaglia di Fratelli d'Italia in favore di un piano sanitario che preveda un sistema ospedaliero policentrico che è la stessa battaglia condotta dai coraggiosi sindaci del patto di piagge per realizzare un vero sistema ospedaliero che non lasci indietro nessuno e che restituisca anche al nostro territorio quella rete dell'urgenza e emergenza che è stata smantellata da Ceriscioli e dai suoi compagni. Ok, posso?